Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi il mio ultimo progetto. Si tratta di un display a matrice di LED, portatile, è infatti alimentato tramite una batteria litio, basato su Arduino Uno e comandabile tramite Bluetooth. L'ho chiamato Blue Matrix. Vediamo subito il suo funzionamento. Ho sviluppato un'applicazione Android in esecuzione sul mio smartphone, tramite la quale posso collegarmi al display. Come vedete, dopo qualche istante l'applicazione Android visualizza lo stato di carica della batteria, lo stato del display, in questo momento spento, e il testo che viene visualizzato dal display. Posso andare ad accendere il display, il quale comincia a visualizzare il testo che era stato precedentemente memorizzato. Sempre tramite l'applicazione posso andare a modificare il testo, e immediatamente il display visualizza il nuovo testo inviato. Infine posso spegnere lo scrolling del testo e mettere nuovamente il display in stand-by. InXT Infine InXT Grazie a tutti.